Sono Enrico Graziati e sono il candidato sindaco del gruppo civico per Castel del Forte. Insieme con il gruppo che rappresento abbiamo deciso di orientarci verso quello che sono le nuove tecnologie emergenti, ormai consolidate in quello che è il nostro mondo moderno, verso i social network. Quindi abbiamo pensato di aprire il nostro profilo su Facebook come su Twitter e da questa sera abbiamo inaugurato quello che è il nostro canale su YouTube attraverso il quale abbiamo tutta l'intenzione di proporci, di farci conoscere e di far capire alla cittadinanza quello che noi vogliamo per il futuro del nostro Paese.